Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a tutti ragazzi, il mio nome è Carmelo Lombardo e oggi vi farò un video, un vlog sarebbe e vediamo di mettere bene state le camere, ecco fatto e oggi con me c'è il mio amico Simone bella e di che parliamo? eeeh no nello scorso blog ho detto che avevi fatto delle recensioni su dei giochi? si, però adesso non ho trovato dei giochi su cui fare recensioni possiamo fare Black Ops 3 che è appena uscito e io non ce l'ho però e beh manco io, però ho visto il gioco, il trailer il trailer del gioco è bello, si è bello il trailer potrei far vedere il trailer però dove cercarlo il trailer durerebbe 10 minuti 2-3 minuti 2-3 minuti pure il video eeeh vediamo che altro parliamo che un giorno farò anche video sul computer del gioco che si chiama? eeeh non so, cube world cube world o anche come dire no stale no stale eeeh 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 tera da altri come dire da quei da altri youtuber avete visto questi giochi anche come dire tera l'avete visto non non mi ricordo da chi non so da chi chi seguite eeeh chi lo sa ma io farò sti giochi un giorno e non so quando speriamo presto aieieieieie ma santa ha un mal di testa eeeh che dico adesso? ahah non mi sono preparato le parole perchè proprio adesso abbiamo abbiamo deciso di farlo che io non volevo perchè ho un mal di testa e non riesco a pensare a un cavolo Eh possiamo parlare Di stoppare il video? No Il prossimo gioco che farai sul canale Chi lo sa Ancora devo sceglierlo Eh vabbè Casomai lo dite voi nei commenti Quello che preferite Mi chiede se parlerebbero nei commenti Ho zero commenti totali Cercate di mettere Tanti mi piace Tanti commenti e di iscriverti Allora Ciao a tutti Bella